Ciao a tutti ragazzi, sono su Fizzis, faccio l'intro velocemente Perché finalmente Credo di aver trovato un Voliath Stupido Che si è bloccato nel terreno E che non riesce a uscire Ok, come hanno detto, presto uccidiamolo Prima che se ne vada via Muori Muori Ok, vi dirò dopo l'intro, per favore Sì Ok, il mio gatto mi ha galato Un secondo Scusami Lucy, eh Sì Dopo ore e ore di gioco Ho finalmente Il cuore del Voliath Sì Ho capito Lucy, vengo ad aprirti Sì ragazzi, finalmente Non avete di vedere la mia felicità Quest'oggi entrimo a sconfiggere quei boss Quell'ultimo boss De questa dimensione Per poi andarsene dall'altra parte Però per prima cosa prendiamo fuori questa roccia qui Sì mamma mia, sono felicissimo Perché prima di fare questo video Ne ho fatti altri due almeno Uno, 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 due In cui, sì, qua c'è la piacchetta che ho visto Ma se ne dimentica di riprendere Altri Un altro video in cui cercavo sti Voliath In cui uno o due li ho anche trovati Ma non riuscivo ad ammazzarli Perché scappano via Sono felicissimo Sono felicissimo di aver trovato sto maledetto tizio qui incastrato Dopo essere morto un milionessima volte Aver ricostruito la torre di Netherrack Per ritornare più sopra Sì, sono felice E con questa felicità Sconfiggerò il terzo ultimo boss Del Cielo Tech 2 Eccoci Alla torre Sì Entriamoci E andiamo In cima Non so cosa mi ha colpito Ma non lo farà più Ok, esci da qui Ecco, non lo farei più Addio, stupidi esseri Ok, sarà un po' lunghezza la faccenda qui Dovrò spaccare E riposizionare Spaccare E riposizionare Luce E finalmente Eccoci sulla Cielo Oh, dai Mi accolgono alla grande Come sempre Eccoci Finalmente qui Allora Oh, ecco appunto qui L'altare Che ci serve In teoria potremmo portarcela a casa E perché no? Ok, quindi Quindi portiamocela a casa Uihè Perfetto Andiamo appunto a casa Ah, a casa Ok, andiamo nella nostra arena Che non è altro Che il castello Che abbiamo rubato Col tizio Gelatinoso E mettiamo Qui accanto Questo Ce l'ho fisico Ah, sì Oh, salve Eccolo qui Il boss Il grande guardiano Dei red guardiano Aspetta Aspetta Ok, una cosa alla volta Prima ci danno questo Che è debole Ha soltanto 750 di vita Ma stai scherzando? Ok, ok Non è così debole come sempre Toglio un cuore e mezzo Ah Ok Attiva sto coso Beccati questo Soltanto 140 Ok, molto deboli No, 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 fermati, fermati Oh Mi stava per ammazzare sto qua Oh Cascita No No Devo assolutamente segnare come spawnpoint casa Ragazzi Sei ripreso tutta una vita sto qua Sei ripreso la vita No Ora che so Guarda la tecnica Spara e via Posso affrontarlo con semplicità Ok forse no Perché usano la Nadejake Sword Usa questa che fa 32 di danno Vai quasi mordo Dai Sì 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 E vai ragazzi Questo significa Che ci sono soltanto due boss Da sconfiggere ancora nel cielo Pack 2 Ma questo significa Che il peggio Uh è cresciuto Il peggio deve ancora arrivare ragazzi Perché i due boss Logicamente saranno i più difficili Da evocare e da battere Non so neanche come si evocano Per ora Mi informerò logicamente Vorrei anche evitare di saperlo Ma dobbiamo completare questo mod pack Che è straordinario Ma non fa minimamente per me Ok Mettiamo qui il pezzo di legno Come sempre Ed ecco qua La statua del guardiano Come diceva la chat Eh sì Sono uscito di entrare i giochi La chat diceva tipo una cosa Che I quattro guardiani Sono stati evocati Voi vi chiederete perché Perché questa è la versione 1.7.2 Della mod E' uno schifo Nella versione originale Per la 1.7.10 Esistono tipo una ventina Se non una trentina di boss Invece qua Esistono soltanto Due, tre, quattro, cinque, sei, sette Otto e nove E anche dieci Non tanto nove Perché Gli altri ne sono stati ancora introdotti Ed è pienissima di bug Come potete vedere Comunque Siamo tornati a casa E direi di fare Una bella armatura nuova Con lo zaffiro Che non ho Devo renderne scavare un po' Ehm Vediamo un pochino Magari si può fare Con qualcos'altro Che l'armatura Ok Con la giada Io ho della giada Neanche un po' Era che Qualcosa No ma soltanto con della giada E del Da zaffiro Allora di zaffiro Ne ho tre Quindi mi serve Un, due, tre, quattro Cinque, sei, sette Sette Vado a prenderli adesso